Una buona serata a tutti voi, vi ritrovate in nuovo appuntamento con Angoli. Prima di andare a conoscere l'ospite che è venuto a trovarci, vi ricordo come sempre il nostro indirizzo di posta. Potete scrivere ad angoli, chiocciola, espansionetv.it per restare costantemente in contatto con la nostra redazione. Bene, un ospite è quello di questa sera che ho voluto fortemente, un personaggio molto particolare, straordinario, soprattutto per i contenuti che porterà qui in questo appuntamento. Do il benvenuto a Nicola De Marinis. Buonasera. Nicola, ciao, grazie per essere qui con noi. Ti ho introdotto in maniera un po' particolare perché tu sei un fotografo, reporter, hai girato il mondo, hai visitato anche territori molto particolari in contesti non turistici, diciamo così, e hai portato a casa della documentazione straordinaria. Uno di questi tuoi viaggi ce lo regali questa sera, in un territorio particolare. Esatto, parliamo questa sera dello stato non riconosciuto, o come si viene chiamato abitualmente nel web o sulle riviste di inchiesta, della Transnistria, il buco nero d'Europa. Praticamente è uno stato grande, più o meno come la nostra Liguria, allungata, situato sulle rive del fiume Nestro tra Moldavia e Ucraina. Questo stato si è staccato dalla Moldavia nel 92 con una guerra civile sanguinosa che pochi sanno che è durata da giugno ad agosto nel 1992 e si è autoproclamato a un suo governo, una sua moneta, una sua forza di polizia, una sua forza armata, ma nessun governo al mondo ne riconosce l'esistenza. Ecco Nicola, come mai tu ti sei trovato lì? Allora, eravamo da quelle parti, per così dire, in Romania con il mio amico giornalista per fare un servizio per una casa automobilistica, per un fuoristrada, sui monasteri della Boccovina in Romania. Allora abbiamo detto, già che siamo in quelle zone, vediamo se riusciamo ad avere un accreto per passare il confine, perché da turista oggi si può entrare, ma ti danno un permesso che dura solamente dieci ore. Quindi un tempo davvero ridottissimo. Se si può arrivare da Kisnia o dalla Moldavia col treno, la polizia ti prende in carico, ti dà un visto che dici ore e dopo devi ritornare in Moldavia. Noi abbiamo avuto questo credito come fotografo e giornalista. Non sembra essere stato troppo facile a dirlo, da come lo dici. No, esatto, bravissima. Abbiamo avuto questo aiuto da una collega giornalista del mio amico, dalla Gazzetta di Mosca, perché la trasnistria comunque è sotto l'ombrello della Russia. Quindi c'è una certa attenzione, diffidenza, nel far sì che non tutti possano accedere a queste realtà. È così? Esatto, sì, sì. Bene. Intanto la regia ci ha mandato dei contributi, immagini che tu ci hai contato. Siamo andati, quel anno c'era un freddo pazzesco, era intorno ai meno 30 gradi, e sono immagini della città di Tiraspol e anche di Bender, la città più vicina. Come è la vita di queste persone? Vediamo tra l'altro delle scene di quotidianità. È tutto monopolizzato, anche c'è il monopolio della Sheriff, che è a capo dell'ex presidente, ai tempi quando siamo andati noi era Smirnov, si chiama l'ex presidente, che lui è a capo della forza di polizia, dei supermercati, si chiamano Sheriff, la marca di benzina si chiama Sheriff, la squadra di calcio si chiama Sheriff. È un monopolio, di fatto. Un monopolio totale. Però la gente vive tranquilla, ci sono i mercatini, come si vede, molto particolari, però è tutto supercontrollato, perché in questo Stato comunque è l'ultimo baluardo dell'Unione Sovietica e ci sono le più grandi acciaierie e fabbriche di armamenti dell'ex Unione Sovietica. Quindi in fatto c'è anche un forte potere economico in quel territorio. Economico, ma più che altro anche di contrabbando di armi, perché come si dice in gergo qui vengono a comprare anche armi da tutto il mondo. Tutti arrivano a comprare lì. Non in modo lecito, perché comunque qua si trova di tutto. Certo. Come è stata la tua esperienza nel momento in cui hai visto probabilmente delle scene come quelle che stiamo mandando dalla regia comunque di vita quotidiana, in contrasto per esempio con quello che mi hai raccontato, cioè un sottobosco invece fatto da situazioni complicate. Però la gente, come dicevo prima, vive tranquillamente, anche se comunque sembra di essere in Moldavia, ma non è Moldavia, perché l'anno prima abbiamo tentato di entrare così, eravamo sempre in zona per un altro servizio con il mio amico. essendo questo stato che non risulta sulle carte geografiche, ora c'è, ma sui GPS, sui satellitari, non esiste. E come mai non esiste? Perché non è riconosciuto, però c'è, capito? Però c'è. Ricordo quella dell'anno prima, eravamo fuoristrada dell'ufficio stampa del giornale, abbiamo fatto questa curva un po' forte, il confine sul satellitare non era segnato, dietro questo costone c'era un posto di blocco e ci siamo trovati il cannone del blindato sul cofano davanti al parobrezzo che l'ha girato di colpo, ci ha fatto scendere, ci ha fatto arretrare con la macchina dopo la prequisizione di allontanarsi, altrimenti non so come sarebbe finita. Come sarebbe andata a finire. Ecco, davanti a queste situazioni, tu che vai, parti per questi viaggi ovviamente con la curiosità del fotografo, del reporter, immagino. Ecco, come vivi invece poi questi momenti improvvisi nei quali, come hai detto tu, tra le righe forse uno può anche rischiare la vita se le cose vanno sorte. Sì, sì, in quel momento lì abbiamo rischiato fino a un certo punto, non avrebbero mai aperto il fuoco su di noi perché non eravamo in zona di guerra o che cosa. Una zona di confine perché comunque dopo la guerra civile che c'è stata nel 92, da marzo a giugno, mi sembra, se mi ricordo bene, quando si sono staccati dalla Moldavia e hanno creato questo Stato che si è autoproclamato con elezioni anche del Presidente non proprio lecite, diciamo, con i Moldavi c'è sempre un po' d'attrito. Allora la Russia sulla zona di confine ha mandato la quattordicesima armata che fa la interposizione, fa la cuscinetto tra i trasnistriani e i Moldavi per far sì che non si riaccenda la miscia. Ma potrebbe, secondo la tua sensazione, è sempre un po' come dire un fuoco nospento. Ma guarda, ultimamente non lo so, anche se da quelle parti comunque, come tu sai, ultimamente si sono fomentate un po' delle guerriglie come in Ucraina, a Donetsk, è un po' tutto in fermento, però si spera di no. Tra l'altro tu sei, perlomeno te lo chiedo, appassionato nel senso molte delle tue immagini ci riportano le realtà dell'est, perché sono molti territori che tu hai visitato. L'hai fatto per passione, o c'è qualche motivo che ti porta là? Com'è il tuo vivere quella zona d'Europa? Oltre alla passione è stato anche un po' un cambio a livello professionale, dopo aver fatto per vent'anni molta Africa, Africa centrale, Africa, il Maghreb, il paese del deserto, le Sara, in moto, in fuoristrada, con altri mezzi per documentare anche per riviste specializzate, ho voluto dare un po' una svolta a livello geografico, così per cambiare un pochino, poi mi era arrivata anni fa, a questa opportunità con questo amico giornalista, di fare, di battere tra virgolette, a questi stati per lavoro, così è iniziato un lungo periodo in questi posti del paese dell'estero, Romania, Ucraina, Moldavia, Siberia, Russia, ne parleremo anche di quella magari la prossima volta che ci vediamo. Sì, molto volentieri perché vorrei che tu continuassi, ecco questo è un filo conduttore molto interessante, sia per il risvolto ovviamente fotografico, ma anche per i contenuti storici e sociali che queste immagini portano insomma alla luce, proprio per questo motivo, volevo anche capire come si pongono, insomma che tipo di accoglienza avete avuto? L'accoglienza è persone gentilissime, anche se magari come dicevo prima, sui siti vengono un po' classificate come persone un po' burmiche, burbere invece persone gentilissime, anzi noi poi quando vedevano noi con l'attrezzatura fotografica, il giornalista che intervistava anche delle persone, chiaro c'era sempre una sorta di controllo sottile che c'era sempre delle... Quindi c'è poca naturalezza da parte di queste persone. Esatto, però la gente comunque è disponibile anche a parlare, a differenza, come ho detto anche l'altra volta, con una puntata precedente, in Corea del Nord abbiamo provato ad avvicinare persone proprio, si voltano e se ne vanno, non proprio sono molto molto... Controllati, cioè questa è la ragione, non è diffidenza o antipatia, è proprio il timore. No, qui invece no, qui l'unica cosa è che per entrare da turisti si può andare, ti danno un permesso che dura, un visto temporaneo che dura dieci ore, si può arrivare dalla Moldaglia col treno da Kisniau, quando si scende dal treno, si viene preso in carico dalla polizia, ti portano in casella, ti fanno questo visto, però entro dieci ore devi riprendere il treno, sennò puoi avere dei guai. Qualche guaio che è meglio sicuramente non avere. Noi eravamo accreditati invece dal Ministero dell'Informazione, che è un accredito difficilissimo da avere, ho avuto grazie anche a un aiuto di una collega giornalista di Mosca che ci ha mandato dei fax e ti dico che ci aspettavano già in frontiera. Abbiamo superato la coda dei moldavi che dovevano entrare al mercato, che cosa? Ci hanno preso, ci hanno caricato su un pulmino, portati al Ministero e ci hanno fatto questo credito da esibire ogni... e dopo potevamo fotografare quasi tutto. Quasi tutto? Quasi tutto. Ma che cosa invece fa parte del non quasi tutto, per esempio? Ma anche i ministeri, gli apparati militari, anche se con un po' di scaltrezza, sono riuscito a fotografarli, diciamo. Ecco. È normale che in qualsiasi parte del mondo apparati militari non vanno fotografati. Certamente. Ecco, Nicola, c'è nel tuo immediato futuro un progetto, un viaggio, delle immagini che devi portarci? Guarda, ho in programma, se andrà in porto, di andare in Iraq. Con una persona per Medici Senza Frontiere. Adesso sto vedendo, sto trattando, se va in porto questa cosa, in una zona un po' calda. Anche questa piuttosto particolare. Bene, Nicola, io innanzitutto ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie per queste immagini, per questa storia che ci hai portato. Io spero che tu nei tuoi viaggi possa trovare ancora l'occasione e il tempo per venirmi a trovare quando vuoi, con le immagini che desideri. Tutte sempre molto interessanti. Grazie Nicola. Grazie a te, grazie a voi. De Marinis. Grazie a voi, restate lì, una brevissima pausa e poi Angoli torna. Grazie a te, grazie a te.